Siamo a Granadella diciamo zona sud più o meno di Tenerife e siamo più o meno a est della bocca del vulcano Teide Adesso andiamo a visitare un museo etnografico ed ecco l'immagine di un uomo di origine berbera abitante delle Canarie prima della conquista spagnola di tutto l'arcipelago un po' di oggetti di varie epoche vengono esposti un po' alla rinfusa Hanno anche ricreato alcuni ambienti ma insomma dai accontentiamoci i simboli della festa chiudono questa carrellata Grazie a tutti